Buongiorno, bentornati nel mio canale. Ok, oggi vi avevo promesso che vi avrei fatto vedere una bella pagnottina. In realtà c'è stato un fuori programma, perché ieri 8 giugno è stato il mio compleanno e ho compiuto 40 anni. E ho pensato di farvi vedere tutti i regali che ho ricevuto in questa giornata veramente speciale per me. Ovviamente questo è un video random, nel senso che non fa parte della mia quotidianità o di quello che io vi mostro della mia cucina. Ma come tutti gli altri video ve lo giro nella mia cucina, così resterà almeno per la location nello stesso ambiente. Come vedete qui alla vostra destra c'è un bellissimo mazzo di rose rosse che mi è stato donato da mio marito. E che me le ha portato, proprio me le ha consegnate a brevi mano ieri pomeriggio. E mi ha veramente emozionato tanto perché sa quanto io adoro le rose rosse. E ve le volevo far vedere un po' più in basso per farvi vedere. Sono 5 boccioli e sono veramente stupendi. E quindi ho pensato che anche loro avrebbero dovuto far parte della dimostranza, del mostrarvi appunto i regali. Poi vi mostrerò i regali in ordine di apparizione. Cioè l'ordine di apparizione e l'ordine di arrivo in cui mi sono stati consegnati. E spero che questo tipo di video vi piaccia. Io di solito li guardo, quelli delle ragazze, dei canali che seguo. Mi sono sempre piaciuti, insomma, sai, prendere spunto, soprattutto per le donnine. Anche perché appunto sono tutti regali, comunque a parte forse uno, sono tutti regali che fanno le gioie di noi donne. Poi troverete tra i titoli di coda alcune foto, alcuni scatti della festa di ieri sera. Perché ho voluto festeggiare con parenti e amici stretti i miei appunto 40 anni. E quindi metterò poi, verso la fine del video, cioè dopo che vi mostro tutti i regali e i vari ringraziamenti, troverete anche qualche scatto della serata, della location, della torta. E la torta è vintage perché praticamente è una pasticceria che è veramente aperta da tantissimi anni a Pescara. E non è nota in molti, però ha una millefoglie veramente buonissima. E da che ricordo l'ho sempre acquistata comunque nei miei compleanni. L'ultima che ho mangiato risale a quando ho compiuto, ho compiuto, compii, 21 anni. Perché ormai i piani ne sono passati. Quindi ho voluto appunto rifesteggiare quale occasione migliore dei 40 con una torta che comunque mi ricordava un po' la mia adolescenza. E quindi insomma ho preso questa torta in questa pasticceria che è piccolina ma che veramente merita veramente tanto. Quindi passiamo subito insomma ai regali perché sono entusiasta e ve li voglio far vedere tutti quanti. Allora, il primo regalo ovviamente non poteva che arrivare da mio marito. E mi è arrivato praticamente sabato scorso. Ed è dentro questa bellissima borsa, borsina. Ovviamente vista così direte, oddio che cos'è, facci vedere, facci vedere ma ve lo sto per far vedere. Dentro questa borsina c'è questa bella confezione. Che vista così direte, oddio che cos'è, che cos'è, facci vedere, facci vedere. Praticamente si apre e dentro esce questo bellissimo paio di occhiali da sole che adesso io indosserò per farvi vedere come mi donano. E anche, potrei girare anche con gli occhiali messi su però vabbè non mi sembra il caso. Sono degli occhiali che come sono entrata nel negozio mi sono praticamente letteralmente follemente innamorata di loro perché come li ho misurati mi sono specchiata e la prima impressione è stata ok, questi sono gli occhiali disegnati per il mio viso. Adesso dite voi se non mi stanno bene. A me piacciono tantissimo e come mio marito mi ha visto così interessata alla merce e calcolate che io ho per gli occhiali da sole una passione, diciamo anche in questo caso vintage perché ne ho uno solo di occhiali da sole che ha circa 20 anni e che perdura nel tempo, di una marca di coco nuda mi sembra e non ha mai fatto una piega, è sempre stata una montatura alla moda e quindi non ho mai sentito l'esigenza di cambiarla. Poi essendo che non ho problemi di vista, quindi non è che ho bisogno di lenti graduate mi sono sempre trovata bene con quelli. Però quando ho visto questi che erano belli in esposizione nel negozio sinceramente non lo so, è scattato l'amore e quindi misurati, provati, calzati, mi calzavo tutto a pennello e insomma mio marito alla fine mi ha detto guarda te li regalo per il tuo compleanno e così mi sono tolto anche l'incombenza di pensare oggi io che cosa le regalo perché insomma dopo tanti anni che uno sta insieme a un certo punto finiscono anche le idee quindi mi ha regalato questi occhiali e la confezione è carinissima perché è aperta e praticamente è così triangolare, no? tipo parallelepipedo per intenderci poi una volta che viene chiuso se lo voleste chiudere praticamente ritorna nella sua forma originale che è così ed è una ficata pazzesca perché anche salva spazio, vedete? e a me piace tantissimo anche la confezione mi dico non so perché e quindi sono occhiali che ecco da quando me li hai regalati praticamente li indosso tutti i giorni e quindi regalo veramente riuscitissimo e questo è il primo regalo che mi è arrivato appunto sabato scorso poi in ordine di arrivo quindi da ieri sera la mia amica Gianna di cui vi ho parlato in vari video e forse anche nell'ultimo di mercoledì mi ha regalato questo smart box che si chiama Superwoman perché praticamente al suo interno potete scegliere tra 6620 esperienze e questo per chi non lo sapesse è praticamente un regalo molto versatile perché la persona che lo riceve può scegliere entro due anni dall'attivazione del coupon o del voucher insomma chiamatelo come vi pare può scegliere tra appunto in questo caso 6620 esperienze cioè tra nel dettaglio soggiorni, cene tipiche o esotiche trattamenti benessere e attività sportive siccome Gianna sa benissimo che io ogni tanto faccio fughe d'amore mi piace la buona cucina mi piace anche prendere cura diciamo del mio corpo e soprattutto mi piacciono le attività sportive perché non sto me ferma allora ha pensato bene di regalarmi questa smart box Superwoman in più se qualora decidessi di partire per il soggiorno praticamente è per due persone quindi potrei tranquillamente partire con mio marito ovviamente mio marito non l'avrei lasciato a casa ecco e quindi è un regalo insomma che mi ha riempito diciamo di contentezza perché io l'ho ricevuti anche altri e reputo che sia un regalo ne ho anche regalati tanti poi peraltro perché è versatile nel senso soprattutto se sai la persona qui è indirizzata che quale utilizzo ne può fare comunque è un bel regalo e quindi questo è stato il primo regalo della serata grazie Gianna è veramente apprezzatissimo allora i regali che vi mostro li rimetto di qua perché così distingo poi in ordine di arrivo sì mi è arrivato questo da parte delle mie cugine Monia e Simona e Simona vabbè aveva anche il figlio Francesco quindi grazie a tutte e tre che mi hanno preso questo bellissimo regalo io sapevo che cosa sarebbe stato il regalo ma non sapevo modello e ovviamente quello che avrebbero scelto loro per il loro gusto e praticamente vi mostro la borsina interna che è un momento se non mi incarto in maniera anche abbastanza eccoci qua questa è la borsina interna che poi ieri io non avevo neanche tirato fuori perché stava dentro la busta di cartone l'ho lasciata lì dentro però anche la bustina questa qui sto pensando la posso riciclare per quando vado a fare la spesa quindi come vedete stiamo sempre nel tema spesa casalingo allora all'interno ho trovato due regali veramente wow e vi sto parlando di questa meravigliosa borsa della linea appunto in hot che a me piace veramente veramente tantissimo questa poi è il modello della collezione del 2017 vedete si apre così e qui ha ovviamente la cerniera se voleste introdurre dentro qualcosa che funge anche da coperchio della borsa e dentro ovviamente c'ha anche la tracollina perché l'unica cosa che io ho detto a Simona è stato di scegliere una tracolla perché è la borsa più versatile è la borsa che io personalmente adoro tra tutte quelle che esistono sulla faccia della terra perché la puoi mettere sia a spalla ma anche diciamo di traverso io spesso le porto di traverso quindi le ho detto prendi quello che vuoi il design che vuoi il colore che vuoi e con questo ci hanno veramente preso la grande perché io il celeste e il blu tutte le sfumature le adoro mi piacciono tantissimo poi insomma immaginate su jeans che cos'è bellissima poi tutte queste rifiniture le cuciture le taschine interne veramente un regalo che mi è piaciuto tanto 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 poi io sono amante delle 500 vintage e così probabilmente il titolo che darò a questo video sarà un compleanno vintage perché l'ho detto cento volte questo termine però mi è piaciuto perché ha queste 500 che io ho nel cuore perché un piccolo aneddoto quando mi sono fidanzata con mio marito lui aveva la prima auto che aveva era una 500 bianca quindi insomma capite bene che è un tuffo nel passato ecco insomma guardo la borsa mi fa pensare a quella che sono adesso ma anche quella che ero più di 20 anni eh sì 20-21 anni fa quindi veramente un regalo bellissimo e poi c'è questo ciondolo portachiave unito qui e poi i colori insomma qui il cielo non lo so ragazzi mi è piaciuto tantissimo e poi diciamo come set mi hanno regalato anche questa questa pochettina tipo non so da metterci le monetine piuttosto che i documenti se andate in giro non volete portare il portafoglio anche se la borsa è abbastanza capiente quindi il portafoglio ci sta tutto però insomma è un regalo veramente bello cioè grazie ragazze perché mi avete reso veramente molto 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 contenta con questo regalo perché è veramente bellissimo un attimo scusate se chino mi chino un momento ma ho da rimetterla a posto altrimenti mi incarto poi sempre in ordine di apparizione perché praticamente come arrivavano gli invitati poi mi mollavano il regalo quindi io ve li mostro da come mi insomma me li hanno me li hanno regalati allora sì praticamente in ordine c'è il regalo degli genitori ieri sera ci sono stati anche i miei genitori e mi hanno vabbè regalato la solita bustina che si regala cioè insomma di solito chi ha ancora i nonni o comunque i genitori usano regalare appunto le bustine con i soldini quindi quello è stato un regalo comunque ben accetto e poi mi hanno regalato questa scatolina che io in un primo momento non ho capito bene che cosa fosse perché ho riconosciuto il logo di una geleria che era aperta tanti tanti anni fa a Pescara ma che ovviamente è chiuso anche da altri tanti anni quindi lì per lì non ho capito bene che cosa ci fosse al suo interno però quando poi sono riuscita ad aprire la scatola che era chiusa al contrario praticamente ho avuto un cioè ho sentito una bella emozione perché mi hanno voluto regalare mia mamma e mio padre e praticamente sto cercando di tenere l'aperta ecco niente la scatola è rotta perché ovviamente ha 80 anni praticamente mi hanno regalato questo collier che poi mia mamma mi ha detto perché io non lo sapevo era stato donato a lei quando compì 40 anni da mia nonna quindi per quello è diciamo un regalo affettivo notevole per me perché sono molto sono stata insomma molto tuttora però non c'è più legato a mia nonna quindi lei aveva regalato questo collier a mia mamma quando compì 40 anni e lei ovviamente lo ha donato a me ieri per i miei di 40 e quindi vedete bene che è un signor regalo io adesso non lo indosso però è proprio il collier classico che si regala di solito non lo so alle comunioni alle cresime e quindi quando mi ha spiegato il motivo per cui mi faceva questo regalo mi facevano questo regalo perché anche da parte di mio padre mi sono un po' emozionata perché insomma sapete bene che il legame che lega una mamma una figlia e di contro anche una nonna perché la mia nonna è come se fosse stata la mia seconda mamma e mi ha veramente riempito il cuore di gioia quindi grazie mamma grazie papà per questo bellissimo regalo che non ha è un regalo che non ha prezzo perché ovviamente è un regalo di famiglia quindi non potevate farmi il regalo più bello grazie e poi poi sempre in ordine di arrivo quando è arrivato mio fratello con la moglie e i bambini mia nipote che quest'anno compie 8 anni mi sventolava sul viso questo così mi sventolava così dicendomi zia zia lo abbiamo fatto noi per te allora io come ho visto il colore già mi ero innamorata perché io sono una spasimante del viola del fucsia comunque di questi di questi colori un po' accesi e quindi come l'ho preso praticamente già la scritta insomma Uri Zia Vale 40 lei poi ha tenuto mia nipote si chiama Stella ciao Stella ha tenuto a sottolineare che la mamma le ha fatti i contorni e lei le ha disegnato e lei ovviamente poi ha ripassato con il colore sul contorno l'ha tenuto a sottolineare e lei è precisa e quindi già così mi piaceva tantissimo poi le insisteva dai apri dai apri dai apri insomma gli ha fatto troppo ridere perché e dentro ci sta così 40 milioni di baci da tutti noi con le firme e poi hanno disegnato la farfallina le apette i fiorellini insomma il sole e le ho detto guarda che questo la zia ci prepara il quadretto lo mette in camera lei tutta contenta adesso lo devo comprare un quadretto probabilmente andrò all'Ikea che li vendono belli colorati così lo metto dentro insomma è un pensiero carinissimo che mi ha veramente fatto piacere cioè un cartoncino però va bene l'hanno dato i miei nipoti quindi mi fa sempre piacere riceverlo e poi ovviamente al cartoncino è arrivato poi il regalo il regalo viene dalla gelleria Stroili che io non so se sta in tutta Italia o solamente qui nel centro Italia non lo so però insomma è una gelleria che da noi è molto conosciuta ma credo anche nel resto d'Italia e quando ho aperto la confezione è questa ovviamente la confezione il nastro è stato già tolto perché non potevo non scartarlo insomma ti danno il regalo lo devi scartare quindi il regalo è stato scartato però ve lo mostro la scatolina è rosa c'è scritto festina e già quando ho letto festina mi è partito l'occhio perché mi piace come marca di orologi e nell'aprirlo praticamente c'è l'accoppiata il bracciale semirigido no semirigido il bracciale rigido con un fiorellino e una farfallina di madre perla è molto molto carino poi ho il polso piccolo quindi insomma mi entra con molta facilità a me piacciono in maniera particolare i bracciali rigidi quindi veramente è molto molto carino poi c'è l'orologio che è veramente bello ha tutto in acciaio ha il quadrante di madre perla dentro con tutta la ghiera diciamo laminata con appunto i brillantini mi è piaciuto veramente tanto l'ho misurato devo andare in geleria a far togliere una maglia perché avendo il polso molto piccolo questo un pochino mi balla però insomma sabato andrò a farmi togliere la maglia così posso poi indossarlo e questo è un regalo che appunto mi hanno regalato mio fratello mia cognata e i bambini è veramente molto molto bello mi è piaciuto quindi grazie ragazzi per il pensiero e per il cartoncino di auguri che appena ho due minuti cercherò di incorniciarlo e appenderlo in camera poi sempre in ordine di apparizione mia cugina dalla parte di mia mamma perché la borsa era da diciamo i parenti dalla parte di mio padre mi ha regalato questa bustina Rebecca.it e l'avevo sentita questa questa marca dentro c'è questa scatola e quando io questo si chiama Rebecca My World quando ho aperto scusate mi si è abbassata la voce ma praticamente all'interno ho trovato questa bella collana questa è una collana con il ciondolo tondo tutto comunque sul diciamo paillettato quindi molto luminoso con l'iniziale del mio nome e mi è piaciuto veramente tanto anche il gancio l'anello diciamo di gancio i doppi anelli con lo zirconcino è veramente molto bello e mi ha detto se non ti piace lo cambi ma io mi chiamo Valentina perché dovrei cambiarlo no non mi piace proprio tanto è un punto luminoso molto molto acceso un regalo veramente veramente molto gradito grazie a Maria Letizia perché non lo cambierò assolutamente perché voglio dire perché lo dovrei cambiare ma lo indosserò ecco lo indosserò subito poi l'ultimo diciamo di arrivo c'è stato il regalo da parte del gruppo di amici qui c'è il bigliettino di auguri oddio scusate mi è entrata qualcosa nell'occhio una trave probabilmente non vedo allora la confezione regalo è questa qui allora anche qui l'occhio mi è partito sul lato sinistro destro non so bene dove forse anche di qua perché come ho letto Pandora io adoro le linee insomma la linea Pandora Pandora l'ho trovata ovunque quindi non potete dirmi che non lo avete nella vostra città al suo interno c'era questa meravigliosa c'è questa meravigliosa scatola tutta bianca e come l'ho aperta praticamente è uscita fuori questa bella collana con una diciamo un cerchietto un cerchio il cui diametro è tutto tempestato di cuoricini e poi c'è questo ciondolo a forma di cuore che il mio amico Riccardo che poi è colui che mi ha consegnato il regalo da parte di tutti loro mi ha tenuto a sottolineare che è un ciondolo medaglione quando mi ha detto un ciondolo medaglione mi è partito subito il ricordo di praticamente quando ero piccola potevo avere 8-9 anni e mia mamma mi comprò un giocattolo dell'epoca che praticamente poi ve lo mostro da qualche parte mentre vi racconto questo piccolo aneddoto e praticamente perché ce l'ho ancora poi a distanza di 31-32 anni io ho ancora questo gioco devo solo trovarlo praticamente era un ciondolo di tipo zircone ovviamente di plastica fatto di varie forme il mio era celeste con il cuore rosso proprio di rubino e che appeso era appunto a forma di cuore ma dentro era medaglione perché se lo aprivate quindi proprio c'era l'apertura così uscivano le zampine e la testolina di quello mio era un cagnolino che poi si richiudeva il petto ed era prende la forma del ciondolo del medaglione era il petto di questo cagnolino mi ricordo che era un gioco che io proprio ci giocavo veramente ore e momenti e come appunto mi è stato detto che il cuore era un ciondolo medaglione il primo pensiero è partito e mi è andato al giocattolo di quando avevo 8 anni quindi ve l'avevo detto che era un compleanno vintage voi dite di no è un compleanno vintage perché ricordo anche cose di ormai ant'anni fa vabbè quindi questo è stato il regalo da parte di Riccardo Tommaso Mireia Marco Federica e i bambini di Marco Federica Diego e Manuel grazie veramente ragazzi perché è uno spettacolo di regalo grazie 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 con questo ho concluso i regali che mi sono stati donati ieri ovviamente nell'arco della giornata io ho ricevuto anche tante app e belle sorprese tramite messaggi whatsapp e anche telefonate mi è arrivato amore a profusione un po' da tutte le parti del mondo anche da quelle persone che io avrei voluto accanto a me ma che purtroppo vivono all'estero e quindi sono state sicuramente con me nel mio cuore perché ho pensato quasi tutta la serata anche a loro ma purtroppo non erano fisicamente con noi a festeggiare e un ringraziamento anche speciale a una cara amica che ha diciamo sfruttato l'occasione del compleanno per inviarmi un messaggio su whatsapp molto sentito che mi ha fatto enormemente piacere e che ovviamente mi ha riempito di gioia e quindi ha reso il compleanno ancora più speciale di quello che già non era nell'arco della giornata e spero veramente che possiamo recuperare tutti gli anni persi dietro a stupidate che comunque si possono tranquillamente risolvere verbalmente e poi diciamo recuperare negli anni futuri quindi grazie Alessia veramente del messaggio mi ha reso tantissimo contenta e quindi in ultimo ma non di importanza voglio ringraziare tutti voi perché in famiglia era scattato il toto iscritti e ci si augurava che nell'arco della giornata di ieri si potesse raggiungere la cifra tonda e di fatti ieri mattina siamo arrivati a 400 quindi grazie veramente di cuore a tutti quanti perché ormai fate parte della mia famiglia mi riempite le giornate così come spero che io riempia le vostre con i miei piccoli video piano piano prendiamo piede su via per chi invece fosse capitato in questo canale per caso sono Valentina ciao a tutti su via iscrivetevi basta un clic ed è gratis attivate la campanella per restare sintonizzati ai video che pubblico trisettimanale perché vanno in pubblicazione lunedì mercoledì e venerdì e se vi è piaciuto il video lasciatemi un like così insomma facciamo crescere un pochino anche questo piccolo canale nel mare di youtube e con questo è tutto io mi auguro di avervi fatto compagnia che qualche regalino mi sia piaciuto a me tutti quanti ma io sono di parte e vi rimando al prossimo video un bacio enorme ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti